signore e signori buonasera buonasera a tutti il comune di vittorio veneto e fondazione minuccio minucci vi danno il benvenuto qui a palazzo todesco un saluto anche a quanti ci stanno seguendo in streaming sui canali social del comune di vittorio veneto questa mattina eravamo qui ci siamo trovati qui per l'intitolazione di questo piano ai fotografi giulio marino e alfredo marin ora un secondo momento l'inaugurazione della mostra vittorio 60 70 esposizione fotografica con scatti che ritraggono momenti e luoghi della nostra città nel periodo che va dagli anni 60 agli anni 70 provenienti dall'archivio fotografico alfredo marin qui con noi come vedete abbiamo tanti ospiti a partire dal sindaco di vittorio veneto antonio miatto poi abbiamo laggiù l'assessore alla cultura antonella uliana e poi ancora in centro il presidente di fondazione minucci luigi marson la scrittrice la scrittrice giovanna casagrande e lì in fondo lo storico franco giuseppe gobbato prima di dare la parola agli ospiti vi do qualche informazione nel 2018 con la fondamentale collaborazione di raffaello marin e lo diciamo con un po di emozione vengono allestite per la prima volta due mostre fotografiche con gli scatti dell'archivio vittorio 30 60 e vittorio ventennio la prima organizzata da mai associazione culturale presso il museo del cenedese ha contenuto inediti scatti della città dagli anni 30 agli anni 60 la seconda organizzata dalla fondazione minuccio minucci a palazzo minucci de carlo ha portato alla luce fotografie scattate durante il ventennio fascista la mostra vittorio 60 70 organizzata oggi qui a palazzo todesco è la continuazione delle precedenti l'organizzazione ha voluto dedicarla a raffaello scomparso lo scorso due settembre durante la preparazione di questa mostra vogliamo ricordare raffaello con un video che al suo interno alcuni estratti delle interviste che abbiamo realizzato durante le precedenti esposizioni vediamo ma è stata una grande emozione perché vedere intanto tanti senedesi e tanti cerravalesi perché lei sa che senedesi e tanti cerravalesi sempre stata sempre sarà due cose differenti perché mi mi ha cresciuto non come vittorio veneto ma come seneda e cerravali tanta tanto ho visto tanto interessamento per questa mostra e mi sembra che la gente sia soddisfatta perché ha visto dei lavori che ormai non esistono più diciamo perché diciamo sinceramente il mestiere di fotografo non esiste più perché adesso con con la modernità il telefonino le macchine digitali una volta bisognava pensare che queste fotografie sono fatte con lastre e per portare la macchina fotografica non era una cosa facile e bisognava indovinare la fotografia perché non costavano care e non potevi fare uno due tre fotografie per scegliere né una ne facevi una e quella doveva essere fatta bene perché dal momento che si caricava la macchina al momento che si consegnava la fotografia era un percorso non facile ma queste sono fotografie fatte tutte da mio padre perché le ultime fotografie quelle della delle manifestazioni di mussolini e di il principe umberto io avevo due anni tre anni perciò sono tutte cose scattate da mio padre io le ho conservate queste forse quelle che ci tenevo di più per per il periodo storico per tutto per tutto bisogna tenere presente una cosa che a vittorio ci sono sempre stati due fotografi nei primi anni novecento primissimi anni novecento c'era marino a seravalle e onboni a ceneda finita la prima guerra c'era marino e marino e questo era l'ommaggio che abbiamo voluto tributare a raffaello marin un saluto anche ai figli massimo e giovanni che sono qui con noi passo ora subito la parola al sindaco di vittorio veneto antonio miato per un saluto un bravissimo saluto buonasera buonasera a tutti benvenuti a questo secondo appuntamento di oggi questa mattina ci eravamo trovati appunto per l'intitolazione ai due grandi fotografi due grandi artisti noti a tutti in vittorio veneto e questa sera siamo qua invece per questa ulteriore mostra proveniente dal fondo marin io ho avuto modo di conoscere raffaello circa un anno fa prima non lo conoscevo se non di fama e l'ho trovato una persona particolare speciale molto sensibile e che mi ha fatto capire raccontandomi un pochettino le sue vicende quello che era il fotografo una volta lui era conscio che il suo era un lavoro un lavoro che si faceva per vivere era però anche conscio che i suoi scatti avevano caratteristiche tali per cui si potessero definire normalmente scatti artistici e era conscio anche del fatto che alla pari di altre professioni quella del fotografo aveva anche una un aspetto un valore sociale un po' come il fornaio che nei momenti difficili della società interviene col suo lavoro che lo faceva per vivere ma anche per aiutare ma anche per essere presente con la sua specifica professione quindi io posso dire che abbiamo sbagliato di poco i tempi ma in uno dei prossimi eventi che certamente saranno fatti sempre utilizzando il fondo fotografico marine dovremo ampliare l'intitolazione di questo in questo stabile anche la figura del caro raffaello che abbiamo seppellito da poco vi ringrazio della presenza grazie sindaco facciamo un applauso e passiamo il microfono ora all'ingegner Luigi Marson per un saluto ricordiamo che anche la fondazione Minuccio Minucci è organizzatrice di questa mostra salve a tutti 2020 un anno che ha segnato fortemente il nostro vivere non solo nel presente ma anche e soprattutto nell'immaginario del futuro qual è la risposta un'esperienza personale io dico quello che ho provato due vie una prima via sperimentata nella prima e mi auguro fortemente unica fase di confino familiare di reclusione forzata la scorsa primavera e questa prima via è ritrovare riscoprire e conoscere una cultura una letteratura millenarista per esempio un testo o meglio i versi del poema epico di Dascalico Occasum Mentis Occupatio Mentis scritto nel decimo secolo da Odone di Thur secondo Abate di Cligny immagini escatologiche che dilaniano in lampi corruschi di una società di un mondo verso la rovina ma anche il terribile abissale pessimismo di un altro testo le miserie umane condizionis scritto da Lotario Conte di Segni verso il 1195 prima che diventasse papa fosse nominato pontefice innocenzo terzo un papa che ha segnato il medioevo non solo in Italia quare consum merentur in confusione dies mei perché continuiamo a distruggere a consumare nell'incertezza i nostri giorni ma vi è anche una seconda via è quella che forse anzi di certo percorriamo adesso è la via di immergersi di affidarci all'arte ovvero alla bellezza una via che dà luce al futuro al nostro futuro e la poesia di certo è arte perché nelle sue manifestazioni come in queste manifestazioni che noi vediamo in queste immagini assurge ad arte momenti di vita cristallizzati in foto momenti che talora trasfigurano addirittura in un tempo che perennemente si rinnovella attraverso i lampi dei ricordi ecco la mostra vittorio 60 70 vedendo queste immagini personalmente oserei dire vengo travolto da tanti ricordi io che adolescente ho vissuto qui in vittorio tanti di questi momenti e tutto questo grazie all'archivio fotografico di alfredo marigna e vedendo queste immagini c'è una grande soddisfazione un senso anche di pace di gioia ma nello stesso tempo anche forse una profonda malinconia perché sono momenti che sono relegati nel passato e dunque non potranno più essere vissuti concretamente comunque tutto questo è l'infa che può permettere di sperare e di proseguire nel mistero del futuro e a questo punto questa mostra è nata e si è sviluppata grazie al supporto al contributo di vittorio veneto e dell'amministrazione di vittorio veneto che qui ringrazio fortemente il sindaco l'assessorato e l'assessora poi voglio anche ringraziare Andrea l'artefice di questa mostra io lo conosco da tanto Andrea l'architetto Maroelli e so bene la sua capacità la sua valentia nel creare eventi culturali ma non solo lui poi diciamo la spiegazione di questa mostra l'analisi di questa mostra è merito del mio carissimo amico Franco il quale è un ricercatore storico e conosce molto bene la storia contemporanea di vittorio veneto comunque non è solo questa mostra che ci permette di proseguire verso il futuro in realtà questo è un tassello questo è un filo di una trama che lega tutti i luoghi oserei dire le dimore d'arte e dimore in un senso decisamente alchemico che vivono qui in vittorio veneto ovvero sia musei chiese palazzi è inevitabile qui un riferimento visto che rappresento la fondazione minuccio minucci al palazzo minucci de carlo pur in questo anno difficile riusciamo siamo riusciti a tenerlo aperto attualmente è aperto proprio per offrire a tutti delle immagini d'arte di storia ovvero sia di bello e serve molto in questo periodo e tutto questo questa fiammella perdono questa fiamma che ci permette di andare avanti e questa diciamo di proseguire attraverso la bellezza estetica e la gioia estetica devo dirlo è merito anche del lavoro professionale preciso e diligente ma soprattutto appassionato e spesso nascosto di Francesca la dottoressa Costa Perari alla quale dedica il suo tempo nel collaborare con la fondazione e di questo la ringrazio ma tornando alla mostra adesso lascio la parola all'assessore all'Antonella Euliana che è una delle organizzatrici a tutti gli effetti della mostra e poi a tutti buona visita grazie ringraziamo l'ingegner Marson qualche istante per la sanificazione del microfono e come già annunciato la parola all'assessore Antonella Euliana grazie io vorrei entrare un po' più nel nel tema della mostra dandovi possibilmente una chiave di lettura o un filo rosso di percorso di come leggere interpretare gustare questi scatti fotografici nella successione in cui sono stati collocati e devo dirvi che mi piace particolarmente il titolo che è stato dato al ricordo che io ho scritto di Lello Marin il custode degli attimi il custode degli attimi perché Lello Marin si circondava delle fotografie che facevano parte del suo archivio e che lui vedeva come un suo orizzonte di vita personale parlare di fotografia con Lello era parlare della sua vita delle tappe fondamentali della sua vita era parlare del suo lavoro e allora qui mi domandavo sentendo gli interventi precedenti se il lavoro di fotografo può diventare opera d'arte questo è un bel tema che si potrebbe sviluppare e sul quale si potrebbe discutere sicuramente all'interno di questa mostra ci sono delle fotografie che Lello ha fatto per il piacere dello scatto ma ce ne sono anche molte che ha fatto su commissione e allora lì la capacità del fotografo del grande fotografo lasciatemelo dire è quella di riuscire a trasformare il lavoro mettendoci quel qualcosa in più di sensibilità di capacità estetica di capacità di studiare l'immagine da riprendere l'aspetto compositivo le luci per far diventare quella fotografia anche un oggetto artistico c'è una foto secondo me all'interno di questa mostra che parla chiaro in questa direzione ed è quella che voi vedrete in questa stanza e rappresenta la sala operatoria dell'ospedale che una volta l'ospedale civile che una volta si trovava qui a Serravalle e rappresenta una sala operatoria che ha la pulizia la setticità come immagine che la fa diventare quasi un'opera metafisica o addirittura forse può sembrare simile a un surreale set di una fiction cinematografica se il fotografo deve mettere e deve misurare lo spazio tra lui e il soggetto per inquadrarlo nel migliore dei modi ecco che la fotografia diventa l'immagine meccanica il ricordo la memoria meccanica tecnica di quello sguardo e lo sguardo di Lello Marine è in molte di queste fotografie in quella secondo me in particolare ma questa è un'opinione mia è lo sguardo di un artista la Vittorio Veneto che Lello Marine ci dipinge in queste immagini fotografiche è una Vittorio Veneto che negli anni sessanta ha ancora le caratteristiche e la dimensione di un paese di provincia dove lo vedrete guardando le immagini il prete può passeggiare sul sagrato della chiesa tenendo sotto braccio una donna dove i ragazzini giocano a calcio vanno in bicicletta davanti alla chiesa dove le ragazze si fermano a chiacchierare di fronte al laghetto dei cini oppure un vigile impeccabile in una meravigliosa divisa bianca osserva in piazza Medaglie d'oro da lontano un incidente che è appena accaduto ma è una vittorio veneto che verso la fine degli anni sessanta comincia a dimostrare una notevole vitalità ci appare una vittorio veneto che pare incamminata verso il ruolo di una città nel vero senso della parola capace di essere polo di aggregazione della realtà delle cittadine limitrofe capace di inserirsi con un ruolo importante all'interno del territorio nazionale tant'è vero che lo vedete bene anche qui vittorio veneto in quegli anni ospita grandi personalità politiche grandi personalità della cultura spettacoli figure istituzionali e in quel periodo vediamo una piazza del popolo piena di persone vediamo un palazzetto dello sport dove c'è il concorso corale vediamo l'affollamento nelle prime fasi del concorso di violino con un giovanissimo Giuliano Carmignola ma è un periodo in cui cominciamo anche a vedere emergere le lotte all'interno delle delle fabbriche i due poli industriali importanti la Carnielli da un lato la Colussi dall'altro ecco l'immagine forte importante di uno sciopero nella fabbrica della Colussi e quindi tutte queste operaie ritratte al di fuori dell'edificio oppure un'immagine forte estremamente significativa è quella dell'uscita dalla Carnielli del feretro del padrone portato a spalle nella bara dagli operai immagini quindi che ci parlano di una Vittorio Veneto a tutto tondo di una Vittorio Veneto che come vedete in questa immagine nel 69 vede il sindaco di allora Aldo Toffoli avvicinarsi all'interno dell'ospedale civile al letto di una giovane mamma che ha appena partorito ed è tutta timorosa con questo bimbo in braccio ebbene quel bambino fa raggiungere a Vittorio Veneto il numero dei 30.000 abitanti immagini importanti immagini significative immagini che intervengono anche pesantemente sul territorio vittoriese è la sala dedicata alla costruzione dell'autostrada tutta questa serie di piloni che creano questa via che apre una realtà completamente diversa rispetto al paesaggio originario non c'è in queste fotografie ovviamente l'immagine di Lello Marine ma ce n'è una nella quale lui è presente no non lui è presente la sua ombra c'è lui il fotografo con la sua immancabile macchina fotografica non vi dico qual è andate a cercarla lo vedrete di sicuro grazie grazie assessore anche per questa anche per questa chicca che ci ha voluto regalare diamo ora la parola a Giovanna Casagrande che ha realizzato un'intervista a Raffaello Marine nel marzo scorso intervista che trovate anche in uno dei pannelli qui della mostra buonasera io non non sono brava come quelli che mi hanno preceduto e ho bisogno degli appunti ho pensato che se dovessi paragonare il rapporto che c'è stato tra me e Raffaello oppure Lello come veramente lui desiderava essere chiamato lo paragonerei a una meteora in tutti i suoi aspetti io l'ho conosciuto poco tempo fa era il periodo di Natale e con mio marito sono stata a porgergli gli auguri e da quel giorno sono cominciate le frequentazioni sia telefoniche e qualche visita perché purtroppo come sappiamo poi c'è stato il lockdown che ci ha chiuso tutti in casa da subito Lello mi ha aperto le braccia e il cuore raccontandomi tante cose sia della sua infanzia del suo rapporto con i genitori naturalmente quello che più a lui stava a cuore mi parlava del suo lavoro e del lavoro naturalmente anche di suo padre l'intervista che mi ha rilasciato appunto il 4 marzo è un po' incompleta dovevamo terminarla più avanti cosa che purtroppo poi non è stato possibile e mi ha parlato appunto della sua infanzia della sua infanzia nella sua ceneda con i giochi che allora facevano i bambini che erano sempre in giro dai palasi al castello alla piazza eccetera al laboratorio di suo padre dove lui ha scoperto veramente fin da piccolissimo la sua passione per la fotografia aveva una curiosità incredibile mi diceva proprio nel capire come venivano sviluppate queste lastre e prendevano vita sulla carta e lavorava moltissimo di giorno ma anche di notte perché essendo fotografo ufficiale a noi adesso magari fa un po' sorridere ma in realtà c'era il fotografo ufficiale e lui veniva chiamato per un incidente per una qualsiasi cosa e doveva partire e andare e pensando al giorno d'oggi tutti quanti noi col cellulare che scattiamo in ogni momento a proposito e a sproposito ci sembra un po' strano un po' strana forse questa vita e questa del fotografo di una volta e come lui diceva ne ha viste di cotte e di crude e penso che io non ho ancora visto la mostra però si possa vedere anche nelle fotografie che ci sono lello era stato anche un grande sportivo amava molto la bicicletta lo sci e di questo capitolo diciamo della sua vita doveva parlarmene appunto nell'intervista successiva che è mancata l'ho trovato un un uomo molto lucido consapevole del passato con i suoi errori come per tutti naturalmente consapevole del presente e anche del futuro futuro che purtroppo desiderava terminasse presto non solo per la malattia che lui capiva che stava avanzando sempre più ma anche per la solitudine che ogni giorno gli pesava come a molti anziani purtroppo e che viveva un po' come una punizione era anche un uomo orgoglioso e nonostante i diversi problemi di salute lui desiderava arrangiarsi andava ancora usava ancora l'auto andava a farsi la spesa andava imposta andava dove aveva bisogno di andare non diceva lontano però all'interno di Vittorio Veneto io gli ho proposto diverse volte di di aiutarlo in qualcosa se ne aveva bisogno però ha sempre rifiutato diceva no no io in qualche modo mi arrangio a lui bastava una telefonata alle volte lo chiamavo io altre volte mi chiamava lui non erano mai telefonate molto lunghe giusto come sta come va cose così diciamo tra virgolette di poco conto un saluto al marito ci risentiamo e a lui bastava così poi è successo che è stato ricoverato in ospedale e era un po' difficile poter entrare per andarlo a trovare però sono sono contenta di essere riuscita a fargli visita e così aveva ancora lo spirito di di qualche battuta anche se un po' magari sarcastica e gli ho detto beh dai ci rivedremo a casa per terminare l'intervista ma entrambi sapevamo che non sarebbe successo e mi ricordo in modo particolare quei suoi occhi che rivedo nei figli l'espressione questi occhi azzurri nel volto pallido la barba bianca che nel frattempo era cresciuta e mi ha stretto forte il braccio quando mi ha salutata ho detto beh ci rivedremo dall'ospedale è stato trasferito all'ospis e nel frattempo appunto c'erano le sue telefonate qualche messaggio e quando non mi ha più chiamata ho capito che le cose non stavano andando bene e l'ultima volta l'ho visto all'ospis pochi giorni dopo il figlio mi ha mandato il messaggio che non c'era più poi circa un mese dopo sono state portate le sue ceneri in cima al pizzoc e ho voluto partecipare a questa ultima come posso definirla cerimonia perché mi sembrava doveroso nei suoi confronti di accompagnarlo fin là era il primo ottobre e gli ho dedicato qualche verso povero verso se vogliamo ma un saluto a Lello vicino al cardo secco e spinoso vicino al pendio che guarda lontano lontano da occhi indiscreti nell'essenzialità di aria e cielo nella terra antica e accogliente sono state versate le tue ceneri non poteva mancare la commozione e un sospiro di sollievo nel saperti dove tu volevi essere grazie 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 a Giovanna Casagrande e infine diamo la parola a Franco Giuseppe Gobbato che ha fatto parte della squadra di lavoro che ha preparato la mostra innanzitutto devo dire che è stato un piacere personale ripercorrere la storia di questi vent'anni gli anni sessanta e settanta un po' perché fanno parte della mia fanciullezza e gioventù un po' perché molte delle cose che sono successe in quegli anni sono entrate nell'immaginario collettivo gli anni sessanta e settanta sono lasciatemi passare una terminologia che ha ben poco dello storico tanta roba è successo veramente tante cose che sono rimaste in noi nel nostro dna ne ho fatto un piccolissimo elenco che vi leggo così riuscite a entrare anche voi poi vedrete come è successo a me vi ricorderete di cose che pensate magari fossero successi in un periodo diverso ma nella realtà sono abbastanza unite per esempio Kennedy presidente degli Stati Uniti Yuri Gagarin che è il primo uomo a compiere un volo spaziale i sovietici costruiscono il muro di Berlino la crisi dei missili di Cuba i Beatles fanno uscire i loro primo 45 giri Martin Luther King col famoso discorso di Washington I have a dream muore Giovanni XXIII e gli succede Paolo VI la frana della diga del Vajont le truppe in Vietnam il concilio Vaticano II che viene chiuso il primo personal computer che esce dalla Olivetti il traforo del Monte Bianco l'Arno che straripa su Firenze la guerra dei sei giorni in Israele e per par condicio muore il Che Guevara e muore Francisco Franco scoppia la primavera di Praga con i carri armati che penetrano e invadono il paese viene assassinato Martin Luther King viene assassinato Kennedy Richard Nixon viene eletto presidente c'è l'inizio della contestazione studentesca Woodcock che è un concerto notevole nasce la banda dei Queen alle Olimpiadi di Monaco c'è l'attacco terroristico dei palestinesi Richard Nixon viene dimesso con lo scandalo del Watergate muore Mao Zedong esce il film della saga Guerre Stellari che è diventato un cult uguale il film La febbre del sabato sera muore Paolo VI diventa Papa il nostro vescovo e patriarca di Venezia Giovanni Paolo I che sarà poi sostituito in 33 giorni con Karol Wojtyla non per ultima ma non ultima per quello che riuscirà poi a sconvolgere negli anni successivi l'URSS invade l'Afghanistan e poi qui sapete cosa è successo cosa ha provocato questo negli anni ma cosa succede in Italia l'Italia negli anni 60 inizia gli anni 60 ancora nel pieno boom economico diciamo che l'anno nel quale gli analisti decidono che finisce o inizia a finire il boom economico è il 1964 un boom economico che ha portato in tutte le famiglie nel dopoguerra tutte le comodità televisione lavatrice auto le 500 e le 600 per strada che comunque hanno portato nonostante il benessere anche una certa disparità sociale e negli anni successivi al 64 già siamo fra il 60 e il 70 inizia la crisi petrolifera per cui c'è un declino di questo aspetto economico e qui interviene la politica una politica che inizia negli anni 60 con un centrismo una predominanza della democrazia cristiana sulla politica italiana e un tentativo proprio perché ci sono questi a queste situazioni sociali che iniziano a sfociare di aggregarsi al partito socialista quindi ci sono dei governi democrazia cristiana partito socialista che i quali sperano con facendo delle riforme anche sociali di riuscire a mantenere tranquilla quella che è una situazione sociale abbastanza attesa nella realtà provano anche istituzionalizzando diverse imprese e non riescono la storia ci dice che non riescono in questi loro progettualità e questo cosa provoca provoca tutta quella contestazione che piano piano va a sfociare in un periodo di tensione sociale di tensione sociale che provoca il terrorismo ci troveremo in quel periodo nel quale nel quale c'è la strategia della tensione o anni di piombo cosiddetto e c'è un terrorismo nero e c'è un terrorismo rosso entrambi comunque tentano di stravolgere quello che è l'aspetto politico e l'aspetto sociale finirà poi questo terrorismo lo ricordiamo tutti con il rapimento e la morte di Aldo Moro e non non è stato comunque solo un periodo nel quale c'è stato terrorismo nel senso che è stata anche una stagione di grandi riforme ne ricordo alcune l'istituzione delle regioni lo statuto dei lavoratori il divorzio il nuovo diritto di famiglia e l'avvio dell'emancipazione femminile la regolamentazione dell'aborto la riforma del servizio sanitario la riforma carceraria la legge basaglia che chiudeva i manicomi l'istituzione del servizio civile e il voto a 18 anni in tutto questo Vittorio Veneto come si pone lo ha ben ben fotografato l'assessore Vittorio Veneto è in linea con la storia italiana e nelle foto che sono qui esposte vedete una Vittorio che ha sicuramente un grande sogno il grande sogno di essere una grande città e lo si vede perché viene costruito come si diceva prima all'ospedale vengono costruiti gli impianti sportivi arriva quell'apparato statale che porta l'autostrada che porta la centrale idroelettrica di Nove e anche la situazione demografica è positiva per cui c'è una crescita demografica le manifestazioni sono tutte quasi tutte a livello nazionale c'è per esempio lo zechino d'oro c'è il concorso corale c'è il concorso di violino e ricordiamocelo non è cosa da poco un vescovo diventa patriarca e diventerà papa la politica vede grandi personaggi ne ricordo alcuni Forlani Tinan Selmi Mario Ferrari Agradi Sandro Pertini Luigi Gui Maccanico Loris Fortuna c'è una fotografia di Loris Fortuna un onorevole che sembra sconosciuto ma nell'età è il firmatario della legge sul divorzio e grandi industrie a livello nazionale sia la Carnielli che Colussi e qui Marin fotografa anche il disagio il disagio lo vediamo nella protesta sociale negli scioperi e un inizio anche di estremismo in quella che è una foto di un manifesto di lotta continua è quindi una città che è sicuramente legata alla storia della nazione oserei quasi dire che è parte viva della storia dell'Italia in quel periodo grazie un ringraziamento per le preziose parole che hanno voluto donarci a tutti gli intervenuti prima di salutarvi però altri ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra e quindi gli uffici comunali di Vittorio Veneto Claudio Bertorelli Giovanna Casagrande Francesca Costa Peraria Carlo De Bastiani e il Quindicinale Ivano Della Giustina Franco Giuseppe Gobbato Andrea Maroelli e IEM ricordiamo che la mostra è a ingresso libero sarà aperta il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18 fino al 3 gennaio 2021 a tutti i visitatori sarà rilasciato un coupon che darà la possibilità di accedere con biglietto ridotto al Museo del Cenedese all'Oratorio dei Battuti a Palazzo Minucci e alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II grazie a tutti voi per essere stati qui grazie anche a chi era nell'altra sala e purtroppo ha potuto solamente ascoltare le nostre parole ma purtroppo per le norme sul distanziamento questo era necessario e grazie a quanti ci hanno seguito in diretta sui canali social ufficiali del Comune di Vittorio Veneto grazie a tutti vi aspettiamo nei prossimi giorni qui a Palazzo Todesco grazie a tutti